Salve a tutti amici oggi faremo un gameplay di Black Ops 2 scusate la scorsa qualità ma non alla game capture la partita è già iniziata vediamo cosa riusciamo a combinare morto in B catturate l'obiettivo drone d'attacco alleato in azione camminare con la pistola un'altra con la strugale la llevo normal a ver con che la llevo con nada no llevo una puesta non lo haces i sono statua por scuro tu hai visto di farla di la gente e'eri male, tuoi male come prendiamo Charlie Charlie no? cabrone Ora è raiato, non lo so Ah, toma, io lo chavo al cuore La puñetera doble baja, tío Eh, me sta pegando la valletta, me hijo de puta Hai una fricampiante UAB pronto Occisione confermata Dejarmelo Dejarmelo un momento Dejarmelo un momento Dejarlo, que nada Dejarlo La doble baja que tu, estaba buscándole el chollo, no te preocupes Claro, me dè trego con una de su puta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.